Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Bartabacchi presi di mira dai ladri rubati pacchetti di sigarette in via Sandro Pertini e slot machine al circolo Arci di Tombaccia Scoperto, l'uomo che aveva tagliato le gomme a sei auto nel parcheggio del palazzo di vetro a Fanno denunciato dalla polizia La fondazione Carifano presenta il bilancio di previsione erogazioni invariate per tutti i settori ma nessuna nuova opera nel 2016 Effettuata l'autopsia sulla donna affanese morta dopo il ricovero al Torrete di Ancona martedì scorso Sabato prossimo i funerali Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia anche questa sera apriamo il nostro telegiornale parlando di furti sempre più esercizi commerciali vengono presi di mira dai ladri sia a Fanno che a Pesolo la scorsa notte i malviventi hanno colpito tre bar tabacchi vediamo tutti i particolari nel servizio di Simona Zanghetti Attività commerciali di Fanno e Pesaro prese di mira dai ladri è accaduto di nuovo la notte scorsa intorno al 1.15 al bar tabacchi del distributore di carburante Kuwait in via Sandro Pertini a Fanno i ladri dopo aver sfondato la vetrata della porta d'ingresso con una grossa lastra di cemento trovata lì vicino si sono introdotti nel locale dirigendosi dietro al balcone del bar dove hanno prelevato 150 euro dal fondo cassa e 1.500 pacchetti di sigarette mettendoli in grossi sacchi della spazzatura valore del bottino quasi 7.000 euro tre sono i ladri ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che dopo il colpo si sono dati alla fuga a piedi ma si pensa che una quarta persona possa essere rimasta nelle vicinanze per fare da palo solo qualche settimana fa racconta il titolare avevamo subito un altro furto in quel caso avevano portato via tre slot machine ad un'ora di distanza da questo episodio alle 2.45 quattro malviventi con il volto travisato forse sempre gli stessi hanno preso di mira il bar circolo Arci Tombaccia sono entrati all'interno rompendo questa finestra laterale della struttura in solo un minuto e mezzo hanno portato via anche qui tre slot machine sentiti dei rumori il genero della proprietaria del bar che abita al piano superiore si è affacciato alla finestra e proprio in quel momento ha visto il quartetto che caricava la rifurtiva in un pick up Mitsubishi rubato poco prima in località metauriglia di Fano il testimone che ha subito allertato alle forze dell'ordine ci ha raccontato che i malintenzionati tutti uomini parlavano con un accento dell'est anche per lui stesso furto subito due anni fa sul posto in entrambi i casi sono intervenuti gli agenti del commissariato di Fano coordinati dal dirigente Stefano Seretti che stanno indagando sui responsabili ma la città della fortuna non è l'unica ad essere presa di mira la vicina Pesore infatti non è da meno proprio ieri il titolare del bar tabacchi mi vida aveva sparato due colpi di fucile per spaventare i malviventi aveva preso una carabina da cinghiale e mirato alle gomme di un furgone non aveva colpito nessuno ma è finito ugualmente nei guai l'uomo è stato denunciato per esplosione di colpi in luogo pubblico la scorsa notte invece intorno alle 2.50 i ladri, almeno in tre hanno fatto visita al distributore di carburante Tamoil in strada della grottaccia Santa Maria dell'Arzilla dove hanno rubato poche decine di euro in contanti e batterie per automobili dopodiché si sono introdotti nel bar tabacchi annesso al distributore qui hanno asportato due slot machine una macchinetta cambia monete sigarette, gratte e vinci e bottiglie di vino un danno economico che ammonta circa 10.000 euro indagano i carabinieri di Pesaro la polizia di Fano ha scoperto e denunciato la persona che aveva tagliato 6 gomme di auto nel parcheggio del palazzo di vetro si tratta di un fanese 68enne che già anni fa fu denunciato per lo stesso reato lo vedete in queste foto mentre si dirigeva verso le auto prescelte con forbici in mano voleva attuare una vera e propria vendetta nei confronti degli automobilisti che secondo il suo modo di vedere non avrebbero avuto diritto a parcheggiare in queste aree di sosta così aveva ben pensato di dare una lezione a tutti tagliando sei pneumatici ad altrettante vetture un'idea scattata dopo un litigio intercorso con un conducente che pur abitando in un'altra zona aveva deciso di lasciare in quel luogo il proprio mezzo a rimetterci però sono state più persone che hanno avuto la brutta sorpresa di ritrovarsi le gomme a terra tra questi non solo i residenti delle abitazioni vicine ma anche i medici dell'Asur che hanno sporto denuncia i fatti risalgono al 19 ottobre scorso nel parcheggio interno al condominio Aurora vicino al palazzo di vetro a Fano dove l'aria in questione è munita di telecamere di videosorveglianza quindi grazie alle immagini esaminate e alle testimonianze acquisite gli agenti del commissariato di Fano hanno potuto risalire all'autore del gesto e denunciarlo per il reato di danneggiamento aggravato si tratta di un fanese di 68 anni già noto alle forze dell'ordine che dopo l'episodio aveva sporto anche denuncia raccontando di essere stato vittima del gesto tant'è che aveva due gomme bucate una versione data probabilmente per non far ricadere sospetti su di lui ma non convincente per gli agenti l'uomo ha confessato tutto e ha pure ammesso di essere dispiaciuto per aver creato danni anche a qualche suo vicino di casa il 68enne inoltre era pure recidivo questo vizzetto infatti gli era costato già anni fa un'altra denuncia e si svuota questa mattina l'autopsia sul corpo di Giuseppa Pisanelli la fanese sessantenne morta martedì scorso all'ospedale regionale Torrette di Ancona dopo il ricovero il consulente della procura il professor Cristian Dovidio si è preso 60 giorni di tempo per depositare la relazione con le risposte alle domande poste dalla procura in merito ad un'eventuale responsabilità dei medici i funerali si svolgeranno sabato 31 alle ore 9.30 nella chiesa Santa Famiglia a Fano 2 e la polizia ha arrestato per detenzione e ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cinquantenne albanese residente in città disoccupato e già noto alla giustizia gli investigatori insospettiti da un anomalo andirivieni di persone nell'appartamento dell'uomo l'hanno bloccato dopo un breve pedinamento mentre usciva di casa e hanno perquisito l'abitazione gli agenti hanno rinvenuto tre involucri contenente in totale circa 18 grammi di cocaina materiale per il confezionamento delle dosi 800 euro somma ritenuta provento dello spaccio il cinquantenne finito in manette si trova ora nel calce di Villa Fastigi a disposizione dell'autorità giudiziaria fondazione Carifano le erogazioni nel 2016 della fondazione rimarranno le stesse dell'anno in corso ma non ci saranno nuove opere questa mattina ha presentato il bilancio di previsione il presidente Fabio Tombari è stato presentato dai vertici della fondazione Carifano con il presidente Fabio Tombari il documento programmatico previsionale 2016 che è stato approvato dal consiglio generale il 19 ottobre scorso l'impegno era quello di mantenere gli stessi importi per tutti i settori e così è stato nel prossimo anno verrà erogata la somma di 1.105.000 euro queste erogazioni verranno mantenute integralmente ma non realizzeremo nessuna delle opere che abbiamo fatto in passato e questo a causa della diminuzione notevole di rendimenti finanziari e dall'aumento delle imposizioni fiscali proseguirà il sostegno a Fanottenio e il finanzamento delle borse di studio così come il supporto alle categorie più deboli e a quelle di assistenza ai malati messi in atto dalle associazioni del territorio al welfare inoltre andranno le erogazioni maggiori che comprenderanno le attività in favore di portatori di handicap di aiuto all'infanzia e ai minori altre risorse verranno destinati al parco naturalistico Lago Vicini ma anche alla trasformazione in casa di riposo di alcuni appartamenti situati all'interno della residenza per anziani Don Paolo Tonucci verrà realizzato un centro residenziale assistito per non autosufficienti una casa di riposo e una casa albergo per meglio rispondere alle richieste della collettività nei primi mesi dell'anno verrà poi completata la realizzazione della nuova scuola d'infanzia di Lucrezia di Cartoceto mentre a marzo ad aprile verrà inaugurato Palazzo Bracci Pagani che con la sua ristrutturazione diventerà uno spazio dedicato alla cultura ci saranno musei di arte contemporanea musei della scienza biblioteca lo spazio Ruggeri e tante altre belle cose anche nel 2016 inoltre continuerà l'accantonamento di fondi per l'acquisto di apparecchiatura all'avanguardia per il potenziamento del sistema sanitario pubblico 1.200.000 euro verranno utilizzati per l'acquisto della IORT sistema di radioterapia intraoperatoria a condizione che gli interventi per i quali è possibile utilizzare l'apparecchiatura vengano concentrati all'ospedale Santa Croce verrà potenziato inoltre il polo endoscopico fanese che dovrà servire i pazienti di tutta l'area vasta il presidente Tombari questa mattina ha ammesso di non aver ancora sentito Maria Capalboni o direttrice dell'azienda Marche Nord che durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo incarico aveva dichiarato di sperare in un possibile intervento da parte della fondazione Carifano anche su muraglia in realtà come ha spiegato lo stesso Tombari per legge le loro donazioni sanitarie possono essere effettuate solo nel territorio di competenza io non ho incontrato ancora il nuovo direttore di ospedale di Marche Nord le nostre donazioni per statuto devono essere date attualmente all'ospedale Santa Croce le cose però potrebbero cambiare nel caso in cui muraglia diventasse la sede dell'ospedale unico visto che a quel punto la sanità fanese si sposterebbe nel comune di Pesaro e cambiamo argomento i territori della provincia di Pesaro Urbino durante la seconda guerra mondiale sono stati teatro di aspri scontri ogni tanto la terra restituisce qualche testimonianza e quindi si sono svolte questa mattina intorno alle ore 11 le operazioni di bonifica di un ordigno bellico nella strada comunale Ponte Alto a Metauriglia di Fano si tratta di un proiettile di artiglieria americana risalende alla seconda guerra mondiale che gli artificieri del genio militare di Bologna hanno fatto brillare intorno alle ore 11 in tutta sicurezza e il lavoro e le vertenze e le problematiche legate a questo si sono affrontate questa mattina la senatrice Camilla Fabri il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche Renato Claudio Minardi hanno incontrato stamattina i vertici della Saipem nella sede di Milano l'azienda ha riconosciuto il ruolo importante di Fano definendola un'eccellenza nell'eccellenza una dichiarazione che lascia ben sperare sul futuro della sede fanese bene e siamo in periodo quasi natalizio si incominciano a vedere i primi segni quindi fervono anche i preparativi per i mercatini di Natale e vi compreso quello di Monbaroccio vediamo già dagli anni scorsi era cominciata l'unione di tutte le associazioni quest'anno ancora di più abbiamo aumentato le associazioni e il gruppo dei volontari che lavora le parrocchie tutti insieme ci siamo messi di buona volontà da mesi a lavorare per il Natale 2015 quindi ci saranno tante novità che presenterete in una conferenza stampa si faremo due conferenze stampa una a Pesaro e una a Urbino dove presenteremo tantissime novità quest'anno che provengono sia da Bolzano ma anche dal nostro territorio e soprattutto anche tante novità all'interno del nostro paese del nostro mercatino di Natale create dai nostri volontari ebbene quindi buone novità in previsione di questo mercatino così tanto amato anche quest'anno si è rinnovata la collaborazione tra il liceo scientifico Torelli e il museo del Bali di Saltara per il settimo anno consecutivo gli studenti del Torelli beneficiano del supporto scientifico del museo del Bali potenziando sia lo studio della fisica a scuola che l'attività in laboratorio l'accordo è stato sottoscritto dal dirigente scolastico Samuele Giombi e dal presidente della fondazione museo Alighiero Omiccioli la collaborazione prevede l'allestimento e la realizzazione con personale e strumenti di diverse esperienze che andranno ad integrare quelle svolte dai docenti scolastici il museo porta qui da noi attrezzatura e animatori ed esegue esperienze con le nostre classi Quante lezioni di questo tipo sono in programma e a quali classi sono rivolte? Dunque sono rivolte a tutte le classi del nostro liceo e sono in programma due esperienze per ogni classe nel corso del primo e del secondo periodo scolastico noi abbiamo l'anno scolastico diviso in trimestre e pentamestre quindi è un'attività che parte proprio in questi giorni e si protrarrà fino al mese di febbraio La fisica è una disciplina fondamentale per lo sviluppo delle scienze della tecnologia e dell'intera società e con questa iniziativa il liceo Torelli ne ribadisce tutta la sua importanza permettendo ai propri allievi di migliorare e consolidare le loro conoscenze Il vostro museo sempre di più si mette a disposizione degli studenti? Sì assolutamente il nostro museo che sia internamente in questo caso esternamente attraverso il regime di convenzione si mette in piena collaborazione proposta nei confronti del mondo scolastico e anche quest'anno appunto siamo qua per il sesto settimo anno a rinnovare questa convenzione con il Torelli Questo è stato il primo liceo della provincia che è aderito subito alla nostra proposta quindi noi ne siamo assolutamente fieri e grati e comunque dire la proposta è buona perché poi negli anni se si rinnova e si mantiene vuol dire che comunque tutto quello che in qualche modo di didattica viene proposto viene scelto appunto dai professori La cosa che ci inorgoglisce particolarmente è che comunque sia in ambito provinciale ma anche extra provinciale quest'anno anche extra regionale andremo appunto a proporre queste convenzioni l'anno scorso siamo arrivati dal liceo di Bologna quest'anno c'è il liceo di Ravenna che ci ha proposto appunto questa collaborazione attraverso il regime delle convenzioni per cui io sono estremamente orgoglioso di tutto quello che si fa e che proponiamo poi all'esterno è sicuramente una bella esperienza il museo del Bali ed ora vediamo una di cronaca un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi giovedì 29 ottobre verso le ore 16.30 lungo la strada comunale il campo di aviazione di Fano di fronte al distributore di carburante Erg due auto una Fiat e una Mini si sono scontrate quest'ultima uscita di strada i lesi i conducenti a bordo sul posto la polizia stradale e la municipale parliamo di teatro e la stagione di prosa al Teatro della Fortuna prosegue la nuova stagione con Sarto per Signora lo spettacolo con Emilio Solfrizi e Anita Bartolucci che andrà in scena per tre serate dal 31 ottobre al primo di novembre prossimi sabato inoltre nel foyer del teatro la compagnia incontrerà il pubblico alle ore 18 per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il botteghino oppure visitare il nostro sito occhioalanotizia.it ed ora in chiusura vediamo una notizia di sport sport non giocato però perché domenica prossima l'Alma Juventus Fano gioca fuori casa contro il San Nicolò a Teramo ma non potrà contare sul supporto dei propri tifosi il prefetto di Teramo ha vietato la trasferta ai sostenitori del Fano come era già accaduto a Iesi la decisione adottata punisce gli sportivi anche famiglie e genitori con figli ai quali viene negato per la seconda volta consecutiva il piacere di poter assistere alle gesta sportive della loro squadra con queste parole l'amministrazione comunale di Fano esprime tutto il suo rammarico per la decisione del prefetto rammarico espresso anche dalla società Alma Juventus Fano che giudica incomprensibile la decisione assunta dalla prefettura di Teramo in questo modo si va a minare l'entusiasmo che si era creato intorno alla società impedendo a tanti appassionati di seguire da vicino la propria squadra queste le parole della società sportiva fanese bene con quest'ultima notizia termina l'informazione per questa sera occhio alla notizia tornerà naturalmente domani sera se vorrete puntualmente qui alle 20.30 noi ci saremo per intanto grazie per la vostra attenzione buona serata a tutti voi grazie per la vostra